L'indignazione per quello che mi sta succedendo dopo 20 anni di guerra, di battaglia per la libertà del... ...sinistra ha preso più seggi, ma perché durante le elezioni politiche si calcolavano le coalizioni e quindi le coalizioni di governo e non i singoli partiti, quindi il PD ha preso meno voce di grillo, adesso... Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta, ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, un milione di persone fantastiche, è fantastico! Ho girato, ho girato il lungo e il marco, e allora siamo arrivati qua, e stanno vedendo qua, che è Roma qua, è Roma dove li vedete tutti i giorni, li vedete nelle loro macchine blindate, senza più contatto con la realtà, dovrebbero scrivere sulle porte delle auto blu, state per uscire nella vita reale, sono sconnessi da qualsiasi cosa, non hanno ancora capito che cosa gli sta arrivando, non hanno capito, non hanno capito, poi qua loro nei loro teatrini, nei loro piedi, con le comparse dentro, loro nei loro loft, nei loro uffici, con i convegni, con le loro comparse, con le intervigioni. Grazie! Grazie a tutti!